Un'attenzione particolare a tutti i lavori che stanno riguardando i sottoservizi e l'input partito dagli uffici comunali dopo il tragico episodio di corso al Cide De Gasperi. A prescindere dall'effettiva connessione o meno tra la condizione dell'asfalto e l'incidente, tema sul quale sono in corso delle indagini, la questione ha fatto piovere segnalazioni provenienti da molte parti della città. Come noto, laddove vi siano interventi compiuti da soggetti terzi rispetto al comune, la politica posta in essere nella città di Bari è quella di avere concessioni nei lavori subordinate al rifacimento di tutto il lato della carreggiata interessata entro sei mesi dal completamento, un tempo necessario per permettere il riassestamento dovuto al passaggio dei mezzi. L'ipotesi attualmente in esame è di accorciare questa scadenza tre mesi per velocizzare il ripristino ottimale di queste aree nel più breve tempo possibile. Discorso a parte sono le manutenzioni su aree non direttamente interessate da interventi sui sottoservizi per le quali la competenza direttamente comunale. Di recente Palazzo di Città ha sfruttato un finanziamento regionale nell'ambito del bando strada per strada da 5 milioni di euro che tra le altre ha consentito di riasfaltare Viale Europa, Viale Orazio Flacco, Via Buozia e in ultimo Viale della Repubblica con il rifacimento e l'inalzamento anche della pista ciclabile. Quanto agli altri interventi richiesti, Via Gentile sarà completata entro la primavera nell'ambito dei lavori del PIRP, opere realizzate dai privati mentre nel sottopasso Quintino Sella, messo alla prova dal passaggio dei bus, è previsto il rifacimento del manto stradale nell'ambito di lavori già finanziati dalla regione con l'utilizzo di asfalto fotocatalitico per catturare le polvere sottili. Nell'ambito degli stessi lavori è prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile su marciapiede rialzata su uno dei due lati, difficile che quest'opera sia cantierizzata prima della primavera.